Spanu Vincenzo, capo cannoniere della Security Nerviano, vincitrice del decimo torneo Interforze. Cosa ci dice della vittoria della finale di questo torneo? Prima di tutto devo dire che è un bravo organizzatore che per 10 anni consecutivi riesce ad organizzare questa manifestazione un po' tra colleghi e un po' nonni. Devo dire che tutte le partite sono state combattute fino all'ultimo minuto appunto per questo c'è un bel agonismo in campo e quindi alla fine va bene, se ci mette sempre la grizza per poter vincere. Quindi devo stare a spiegare. Grazie.